L'Assemblea dei Soci dell'aeroporto d'Abruzzo ha rappresentato anche l'occasione per fare il punto sui lavori che stanno per terminare nello scalo abruzzese. Lei diceva prima in conferenza stampa, Assessore, consegneremo al nuovo governo regionale un aeroporto tutto nuovo e più funzionale. Sì, siamo molto soddisfatti. Abbiamo raccolto nel 2014 la società aeroportuale, la Saga e ovviamente l'infrastruttura in condizioni molto difficili, critiche dal punto di vista finanziario e senza investimenti da portare avanti. Abbiamo rilanciato certamente, oggi se ne vedono i risultati e i frutti, questa importante infrastruttura mettendoci delle risorse ma soprattutto rendendola più competitiva a tal punto che l'accompagnamento della risorsa pubblica nel futuro sarà sempre molto meno necessario e soprattutto dovrà caratterizzarsi per la qualità degli investimenti che metterà in campo. Presidente, prima scherzando diceva che ora è davvero un aeroporto questo. Siamo nella parte nuova dell'aeroporto d'Abruzzo, un aeroporto che a gennaio avrà un volto completamente diverso. Sì, siamo al raddoppio dei gates, questi sono i due gates nuovi. Il mese scorso abbiamo inaugurato gli arrivi nuovi, tutto acciaio, vetro, nuovissimi pavimenti, servizi stupendi, poi farò vedere i bagni. Qui a sinistra avremo le nuove partenze, il centro commerciale entro il 10 gennaio decollerà all'80-90% dei protagonisti. Insomma, siamo un aeroporto internazionale con la I maiuscola anche dal punto di vista delle strutture, i passeggeri aumentano, c'è da essere contenti. Abbiamo lavorato molto col personale della Saga che ringrazio tutto, col CDA che ringrazio tutto, con la regione che con noi si è comportata benissimo e quindi è un successo dell'Abruzzo, è un successo dei cittadini, non è un successo nostro. Questo è un gioiello di famiglia. Io spero che la regione, i cittadini abruzzesi, se lo sappiano difendere, se lo sappiano curare, come stiamo cercando di fare anche noi. Parliamo anche un po' di numeri, come va per quanto riguarda l'aeroporto d'Abruzzo dal punto di vista proprio economico? Direi bene, perché nonostante la regione abbia diminuito moltissimo in questi anni il contributo, che è passato da 3-4 milioni l'anno a 540 mila ordinari, penso quest'anno euro, quindi un sesto, un settimo. Insieme abbiamo fatto oggi nel piano industriale, che abbiamo approvato all'unanimità con la regione, questa scelta del cosiddetto SIEG, cioè di un condominio, per cui la regione ci aiuta a tenere nell'aeroporto tutte le forze dell'ordine, con i loro elicotteri, pensate che qui abbiamo Finanza, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia, Capitane di Porto, Ex Forestale e quant'altro, per un totale di mezzi straordinari, noi abbiamo 8, 9, 10 ricotteri, un aereo della Capitaneria che vola a bassa quota con impianti aerofotogrammetrici, che è una ricchezza enorme, un polo della sicurezza che tutto insieme, coordinato, non ha uguali e paragoni in tutta Italia negli aeroporti.